1, 2, 3, 4 Laura, di cosa parliamo? Parliamo di trattamenti di bellezza Senti, senti, ogni star ha delle abitudini particolari Allora vi chiediamo quale di queste star che adesso Laura elencherà Prima di andare a dormire si lava i denti con fragole e bicarbonato 1, 2, 3, 4 Eccola qua la nostra Ludovica Karamis Poi vi dirò anche tutti i cognomi che finora ho detto solo i nomi Lei di cognome fa Karamis Karamis Che è di origine greca Io nonno era greco Era nonno greco Di cosa parliamo invece oggi? Non del tuo cognome ma di? Oggi parliamo di Sonno Eh? Che parliamo? 1, 2, 3, 4 E allora Francesca Di cosa parliamo questa sera? Oggi parliamo di elefanti Chi non conosce il linguaggio degli elefanti? Secondo uno studio cosa si stanno dicendo due elefanti che intrecciano le proposite? Uno, due, tre, quattro Uno, due, tre, quattro Eleonora, Eleonora Miss Frangetta 2011 Eccomi, eccomi Di cosa parliamo? Stasera parliamo di Notte Principesche Allora, quale di quei